Buonasera a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24. Gli inquirenti continuano ad indagare sul movente che avrebbe spinto Salvatore Giordano ad uccidere la moglie ed i figli nella notte tra sabato e domenica in una villetta a Rende nel Cosentino. L'ipotesi più acclarata al momento sarebbe quella che a sparare sarebbe proprio il capofamiglia. Una vicenda complicata come lo stesso procuratore capo di Cosenza Mario Spagnolo ha definito e che deve essere chiarita e soprattutto si cercano le motivazioni del folle gesto. Sentiamo. Quattro corpi senza vita appartenenti ad uno stesso nucleo familiare sono stati rinvenuti a Rende in provincia di Cosenza. I cadaveri dell'ordine sono quelli di un noto commerciante della cittadina Bruzia, rimeditore di telefonini, Salvatore Giordano, della moglie Franca e dei figli Giovanni e Cristiana di 25 e 28 anni che sarebbero stati ritrovati dal fratello del commerciante lunedì mattina, il quale non vedendolo arrivare presso l'attività commerciale di famiglia e non vedendolo per tutto il weekend si sarebbe insospettito di questa lunga assenza. Oltretutto la famiglia viveva in un complesso di villette abitate dai genitori anziani di lui e dal fratello che ha fatto la macabra scoperta. Molto probabilmente l'ipotesi più attendibile, la prima presa in considerazione dagli inquirenti, sarebbe quella dell'omicidio suicidio. All'interno della villetta sono state ritrovate anche due pistole legalmente detenute e su queste due armi gli investigatori stanno lavorando per stabilire quale delle due potrebbe essere stata utilizzata per il terribile rito. Il ritrovamento dei corpi naturalmente ha lasciato sgomenti vicini di casa, i quali, stando alle primissime testimonianze, hanno descritto il Giordano come una famiglia di persone tranquille e che non avevano mai mostrato comportamenti che potessero far pensare ad un epilogo del genere. Era latitante dall'ottobre del 2017 Vincenzo Militano di 29 anni ritenuto vicino alla cosca d'Indrangheta dei Gallico di Palmi, catturato a Monaco di Baviera grazie al pedinamento nei confronti dei familiari che stavano per raggiungerlo in Germania. Nella giornata del 9 febbraio scorso a Monaco di Baviera, in Germania, personale della Compagnia dei Carabinieri di Palmi e della Direzione delle Investigazioni Criminali della Polizia Tedesca, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale e i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, ha localizzato e tratto in arresto Militano Vincenzo, classe 89, ritenuto vicino alla locale cosca d'Indrangheta Gallico, ricercato dall'ottobre scorso quando si sottraeva al provvedimento di ordinanza di custodia cautelare, emesso in data 7 giugno 2017, a seguito di richiesta avanzata dalla dottoressa Anna Pensabene sulla risultanza di indagine per il reato di tentata estorsione concorso. L'identificazione, l'individuazione e la successiva cattura giungono all'esito di un'intensa attività info-investigativa iniziata nel mese di ottobre dai militari della Compagnia dei Palmi, nel corso della quale è stato possibile accertare che i familiari del Militano fossero in procinto di lasciare al territorio italiano per andare a trovare ricercato in Germania. Da qui il contestuale servizio di pedinamento dei familiari da parte dei militari di Palmi, in costante raccordo info-operativo con la direzione delle investigazioni criminali della Polizia tedesca, che nella giornata di venerdì scorso ha permesso di localizzarlo e catturarlo. Il militano, al termine delle formalità di rito, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria tedesca, che ha convalidato l'arresto e nell'amore dell'avvio delle procedure di istradizione dell'arrestato in Italia. Ancora cronaca, era stretto nella morsa degli usurai da diverso tempo un commerciante che ha trovato il coraggio di denunciare i suoi aguzzini. È successo a Taurianova, nel Regino, dove i militari hanno tratto in arresto i due presunti responsabili. Scacco all'usura a Taurianova, una delle piaghe sociali più deprecabili che ci siano i militari della compagnia carabinieri di Taurianova, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP presso il Tribunale di Palmi, nei confronti di due soggetti ritenuti responsabili in concorso tra loro dei reati di usura aggravata, estorsioni e lesioni aggravate. Si tratta di Carmelo Condro, di 59 anni, di Taurianova, e Pietro Condro, di 37 anni. Gli indagati, padre e figlio, sono commercianti con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Il provvedimento cautelare conclude un'attività investigativa svolta dalla stazione Carabinieri e dal nucleo operativo radiomobile di Taurianova, avviata a seguito della segnalazione di un commerciante locale che ha riferito di essere da tempo sotto usura e estorsione da parte dei due condro, i quali, a fronte di un prestito di poche migliaia di euro, avevano richiesto la restituzione di ingenti somme. In particolare, fin dal 2006, il commerciante, in una difficile situazione economica, si era rivolto ai due per ottenere più prestiti di denaro, complessivamente ricostruiti, in 14.000 euro. A fronte di tali elargizioni, i due usurai hanno preteso tassi di interesse del 20% mensile che aumentavano in caso di dilazione del pagamento, arrivando anche oltre i 400% su base annua. I militari hanno documentato che, nel totale, i due usurai hanno preteso circa 40.000 euro. I Condrone e la loro azione delittuosa, approfittando dello stato di bisogno e dell'attività professionale svolta dalla vittima, hanno attuato, ripetute perduranti aggressioni, minacce, anche di morte e violenza, sia verbali che fisiche, appostamenti al fine di costringere l'uomo a restituire il denaro con tutti gli interessi. In un'occasione in particolare, hanno aggredito la vittima, gli hanno impedito di allontanarsi con la propria autovettura, danneggiandola con violenti calci, mentre in un'altra occasione hanno raggiunto il commerciante all'interno della sua abitazione, colpendolo ripetutamente. Le minacce di morte erano invece riferite anche ai suoi familiari, per incutere nell'uomo un costante stato d'ansia e paura. Con la denuncia del commerciante, i carabinieri, sotto il costante coordinamento dell'autorità giudiziaria, sono riusciti a documentare le condotte delittuose dei due usurai, raccogliendo elementi utili all'emissione del provvedimento cautelare, considerata anche la pericolosità dei soggetti e la probabile reiterazione del reato. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti circa 5.500 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita e quindi posti sotto sequestro. I due indagati sono stati tradotti alla casa circondariale di Reggio Calabria. Intensificata l'attività di controllo alla criminalità organizzata nel vivonese da parte dei carabinieri, nel corso di un controllo è stata rinvenuta sottoterra ben nascosta della droga, arrestato il presunto responsabile. La frazione di Pizzini di Filandari è tristamente nota per le vicende di cronaca che per anni hanno tenuto banco sulle pagine dei giornali e in televisione. Regno indiscorso del clan soriano, lì armi, droga, danneggiamenti sono stati e sono ancora oggi all'ordine del giorno. Per questo tutto il comprensorio è sempre stato sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine. Malgrado ciò, negli ultimi tempi si è notato una certa recrudescenza criminale, tanto da obbligare il comando provinciale dei carabinieri di Vipo Valencia ad intensificare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata e allo spazio di sostanze stupefacenti in quell'area. Così i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vipo Valencia, insieme ai colleghi dello squadrone eliportato cacciatore di Calabria e della compagnia di intervento operativo del 14esimo battaglione Calabria, hanno iniziato un controllo a tappeto dell'intera frazione di Pizzini, che ha portato i suoi primi frutti, con l'arresto di Giuseppe Soriano di 27 anni, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e di numerose munizioni. In particolare durante le perquisizioni e controlli nei terreni circostanti, utilizzando anche un metal detector, è stato rinvenuto circa 1,3 kg di marijuana, 300 g di cocaina e 300 g di eroina. In più sono anche stati trovati più di 300 colpi di vario calibro. Il tutto men nascosto da sguardi indiscreti. Soriano, dopo essere stato portato presso il comando provinciale dei Carabinieri di Vipo Valencia, ora si trova agli arresti per possesso di sostanze stupefacenti e munizioni. Chiudiamo l'ampia pagina dedicata alla cronaca e cambiamo decisamente argomento. In arrivo per le famiglie in difficoltà uno sconto sulle tariffe dell'acqua, elettriche e del gas. L'autorità per le energie elettriche, il gas e il servizio idrico ha introdotto il bonus sociale idrico per le famiglie in condizioni di disagio economico. Da quest'anno i cittadini in difficoltà con le bollette potranno ottenere uno sconto sul consumo dell'acqua. Si tratta di uno sconto pari al costo di 18,25 metri cubi annui, capaci di garantire il consumo minimo necessario per soddisfare i bisogni personali. I destinatari dell'aggevolazione sono i nuclei familiari con ISE inferiore a 8.107,50 euro. Tuttavia il limite sale a 20.000 euro per le famiglie con più di tre figli a carico. L'aggevolazione sarà applicata direttamente in bolletta perché i titolari di un autonomo contratto di utenza, mentre nel caso in cui il contratto fosse intestato al condominio, è prevista la restituzione della somma pagata. Il Codacons ha invitato tutti gli eventi di ritto a presentare domanda sia per il bonus idrico che per quello elettrico e del gas. Per l'associazione dei consumatori infatti non si tratta di un regalo che proviene dall'alto, ma saranno tutti gli utenti a farsene carico. Per far fronte al mancato guadagno è stata inoltre istituita la componente da rifari a U13 che verrà applicata su tutte le utenze. Sarà finalmente obbligatorio indicare l'origine del grano utilizzato nella pasta e nel riso con l'entrata in vigore di due decreti interministeriali. Vediamo. Con l'entrata in vigore dei due decreti interministeriali sull'indicazione dell'origine obbligatoria del riso e del grano per la pasta in etichetta, è scattato l'obbligo di indicare l'origine del grano utilizzato nella pasta. Il marchio mette fine all'inganno dei prodotti importati, spacciati per nazionale, in una situazione in cui un pacco di pasta su tre è fatto con grano straniero, come pure un pacco di riso su quattro. E' questo il pensiero di Coldiretti che ha organizzato a livello nazionale il Pasta Day alla presenza del ministro Martina, per garantire maggiore trasparenza negli acquisti e ai consumatori e fermare le speculazioni che hanno provocato il crollo dei prezzi del grano italiano al di sotto dei costi di produzione e che ha già causato la drastica riduzione delle semine. Ci sono due primi importanti segnali, ha detto il presidente di Coldiretti Calabria Pietro Molinaro. Noti marchi garantiscono l'origine italiana al 100% del grano impiegato per la pasta, senza dimenticare alcune linee della grande distribuzione. E questo avviene anche nei pastifici calabresi sparsi un po' dovunque. Poi vi è il prepotente ritorno delle semine nei grani nazionali antichi, come il senatore Cappelli. In Calabria, dopo una diminuzione delle superfici investite a grano, si riscontra un aumento delle semine, in particolare di grano antico, di circa il 25%, e questo sta riscuotendo anche un grande interesse da parte dei giovani con diversi esempi di successo. Le miniature del maestro Sergio Consigli hanno tenuto a battesimo i concerti 2018 del Conservatorio di Musica Fausto Terrafranca di Vibo Valencia. Uno spettacolo multidisciplinare, quello ideato dal maestro Sergio Coniglio, è proposto dal Conservatorio di Musica di Vibo Valencia per l'organizzazione di Ama Calabria, perché fonde insieme quattro arti, la musica, la poesia, il disegno e il teatro, in un'azione che narra momenti di vita di tutti i giorni. Le miniature, scritte e interpretate da Sergio Coniglio al pianoforte, sono una raccolta di 24 piccole composizioni nate dall'improvvisazione estemporanea dell'autore e poi diventate in sequenza immagini da ascoltare, da leggere, da vedere. Ogni composizione, infatti, è preceduta da una piccola didascalia in poesia di Giuseppina Cian Siracusa, declamata dall'attore Alberto Micelotta, e accompagnata da una rappresentazione grafica realizzata a matita da Giuseppe Coniglio proiettata su schermo. Una combinazione di arti per un piccolo viaggio nel quotidiano, tra passione, sentimento, melanconia, gioia, riso, tristezza. È un lavoro che nasce dalla musica e poi coinvolge le altre arti, in quanto dopo aver composto questi piccoli brani, li ho assaporati e ho cercato di sentire che sensazioni mi provocassero. E da lì ho tirato fuori delle immagini, dei titoli, che poi sono diventate immagini da guardare, cioè dei disegni, immagini da ascoltare, immagini da leggere, cioè delle piccole poesie. La sensazione è che c'è molto di intimistico. Tutto quello che nasce spontaneamente, dall'improvvisazione, non inteso come approssimazione, ma come momento estemporaneo, penso che abbia qualcosa di intimo, non è costruito a tavolino. È sembrato un dialogo tra il musicista e il pubblico dove c'era una sorta di confessione. Spero che sia stata così, perché per me ogni volta che mi esprimo in pubblico è come una rosa, perdere tutti i petali, quindi spogliarmi di tutta la costruzione che c'è nella vita di tutti i giorni per mettere a nudo quelli che sono i propri sentimenti. Ancora di più in queste composizioni che sono mie, quindi veramente fanno parte della mia persona. Mi sono spogliato, sperando che sia stato di gradimento vedere nel mio cuore quello che c'è. Nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 107 Silana Crotonese a causa della strada innevata un'autocisterna si è messa di traverso bloccando totalmente la viabilità. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri per coordinare anche l'arrivo dei mezzi speciali per sgomberare il blocco. Nella notte sarebbero previste ulteriori precipitazioni, dunque si consiglia la massima prudenza. E anche per oggi è tutto, io vi aspetto domani sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre. Vi ricordo come al solito di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it Grazie per essere stati con noi anche oggi e auguro a tutti una felice serata.